Torna a Napoli dopo 40 anni un prezioso dipinto di fine 800 trafugato negli anni 70 dalla collezione della provincia. I giochi di ragazze ai leoni di Villa Borghese Olio su tela di Vincenzo Dattoli è stato restituito alla città dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio dopo un'indagine avviata grazie alla segnalazione di un lavoratore della sovrintendenza. Questa restituzione ha un valore grandissimo perché non solo per le sinergie che si sono messe insieme per poterlo ricavare, un impiegato della provincia, allora vuol dire che gli impiegati non sono solo quelli che firmano e vanno via, un giudice che sa questa cosa e apre un procedimento, un'avvocatura che subito si dà da fare per fare un sequestro conservativi, i carabinieri che veramente fanno un lavoro splendido per il recupero delle opere d'arte e poi noi che l'abbiamo accolto come un figlio. Noi abbiamo inserito le immagini di questo quadro nella nostra banca dati, dopodiché ci siamo resi conto che c'era un collezionista a Bologna che aveva presentato questo quadro e grazie a un raffronto con altri quadri messi nella banca dati ci siamo resi conto che si trattava proprio dell'opera di proprietà della provincia di Napoli. La pregiata tela era finita a Bologna nella collezione di un privato con la firma contraffatta di Marco De Gregorio, altro importante pittore di fine 800, le cui quotazioni di mercato sono tuttavia più elevate. Nel 2013 il collezionista che lo possedeva lo espone in una pubblica esposizione e il bibliotecario che lavora presso la soprintendenza Belle Arti Paesaggio del Comune e Provincia di Napoli, Carmine Napoli appunto, Carmine Napoli lo riconosce, lo individua, lo segnale ai carabinieri al nucleo del patrimonio artistico tutela e conservazione, nel recupero, il nucleo dei carabinieri lo intercetta, lo sequestra e lo restituisce oggi alla città, 16 febbraio. Il dipinto è molto importante perché fu esposto in una delle mostre della società promotrice di Belle Arti di cui l'amministrazione provinciale era socia azionista. È un dipinto dal sapore, come dicevo, macchiaiolo, lo vediamo appunto nelle figure, vicino comunque alla pittura di realtà, al realismo partenopeo, però ha in sé anche una conoscenza e un collegamento con certa pittura metropolitana parigina. Oggi è una bella giornata perché quasi simbolicamente attraverso l'arte abbiamo cominciato a dare un'identità e una connotazione a questa nuova dimensione città metropolitana. Vorrei ricordare che da molti mesi stanno avvenendo restituzioni. Vorrei ricordare la sala Agata al Museo Filangeri, riaperta dopo, credo, più di 20 anni, oppure il nuovo allestimento del Museo Civico. Si sta facendo un lavoro da questo punto di vista che ha pochi precedenti, per intensità e valore di ciò che si sta restituendo alla città in termini di patrimonio culturale. Lo splendido quadro di Dattoli è stato collocato all'interno della mostra All'altro 800 nel refettorio del complesso di San Domenico Maggiore, che può essere visitata fino al 28 febbraio. Annico Maggiore, Grazie a tutti